Prima di iniziare il video ti ricordo di Premere il tasto Iscriviti e lasciare un mi piace Grazie Il percorso a Temptation Island si fa sempre più intenso per la coppia Alex e Vittoria La relazione tra i due è messa a dura prova, specialmente da quando Alex ha iniziato a legarsi alla tentatrice Nicole, mostrando sempre più affetto e complicità La situazione si sta scaldando, ammette Alex, lasciando Vittoria visibilmente infastidita mentre osserva la scena durante il falò Alex e Nicole, cercando di evitare i microfoni, comunicano in codice Alex insinua con tono malizioso, se stasera vieni in camera, faccio la valigia Questo comportamento non fa che aumentare la rabbia e la delusione di Vittoria, io ero impulsiva e lui mi ha spento perché per lui, avere queste emozioni vuol dire essere infantili Io lo sapevo che lui era così, ma mi faceva passare per pazza Le immagini del falò rivelano ulteriori momenti intimi tra Alex e Nicole Abbracci e baci non lasciano spazio a dubbi, mentre Vittoria continua a soffrire Alex, consapevole delle telecamere, cerca di trattenersi, ma l'attrazione per Nicole è evidente Come evolverà questa situazione? Riusciranno Alex e Vittoria a superare questa crisi o sarà la fine della loro storia? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti Grazie mille per essere stati con noi oggi Speriamo che il video vi sia piaciuto Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video Grazie a tutti